Nell'arco di questi ultimi anni, come tutti sappiamo, il ruolo di attaccante inteso come numero 9 è molto cambiato, le caratteristiche richieste agli allenatori sono sempre diverse e non basta più il pennellone che tu metti al centro dell'area e poi l'unico compito che ha è quello di buttare le rete. Infatti i centravanti, vecchio stampo, un po' magari come Diuric del Verona ad esempio, quelli che fanno sportellate, stanno avendo un po' difficoltà ma perché le richieste agli allenatori sono cambiati, non è richiesto più l'oro soltanto di segnare, bensì di giocare spalla alla porta, di fare gioco, di valorizzare gli esterni e le mezzali che si inseriscono. Allora mi è saltato in mente un profilo che poi andando a vedere anche in giro nell'internet, ho scoperto che insomma ha dato la vittoria alla sua squadra, va a dire lo Sporting Lisbona, contro Rio Ave segnando all'ottantaquattresimo. Appunto la partita è finita 1-0 per lo Sporting Lisbona e vi sto parlando di Youssef Schermitti, classe 2004 portoghese di origine tunisina che in questo 2023 sta cominciando a scavalcare gearchie in prima squadra dello Sporting Lisbona. Quindi in questo video un po' vi voglio parlare di chi è Youssef Schermitti ma allo stesso tempo fare un piccolo ragionamento se un centroavanti come lui potrebbe essere utile anche per qualche scuola italiana perché comunque è 2004, fa 19 anni quest'anno e lo dico adesso prima che me ne scordo durante il video, al contratto di scadenza il 30 giugno 24, quantomeno ad ora che sto registrando il video. Ovviamente prima di analizzare il tutto, vi do il mio bentornato e un benvenuto sul canale a seconda che siete già inscritti e bentornate a casa del calcio dove un'unica fede calcista è quella verso il calcio stesso. Vi raccomando anche di supportare i miei progetti podcast, vale a dire volti nuovi e storie di calcio che potete trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Apple Podcast di The SunCloud e seguitemi anche su TikTok perché a volte metto quelle pillole calcistiche secondo me non meritevoli di video un po' più approfonditi. Ma veniamo a noi, chi è questo Yousher Schermitti? Centroavanti puro, classe 2004, che è cresciuto nelle giovani dello sport in Lisbona e alto 192 cm, destro di piede e che fisicamente e in parte anche somaticamente assomiglia a Raffaele Au. Nel senso che nonostante la grande altezza, ha questa muscolatura longe linea, velocità di falcata, unità alla lunghezza della falcata perché le sue gambe sono veramente molto lunghe. Assomiglia anche a Leao a livello somatico perché evidentemente forse gli sarà fatta notare questa cosa e ha queste treccioline lunghe che un po' più corti sui lati che molte volte raccoglie in una coda. Destro di piede. E perché vi ho parlato anche del concetto di centroavanti moderno? Perché lui lo è. Lui unisce, contando anche che adesso i giocatori vengono valutati non soltanto come giocatori di calcio, bensì anche come atleti, perché la velocità del calcio in anni è aumentata. Ecco appunto, Schermitti racchiude tutto ciò perché ha appunto 192 cm di altezza, leve lunghe, bella falcata, veloce e soprattutto nelle letture perché lui in primis gioca come punta centrale nel 3-4-3 dello Sporting Lisbonne. Fondamentalmente li ha giocato sempre, anche nei giovanili, ma che di contro valorizza il movimento soprattutto dei centrocampisti centrali o quantomeno delle mezziali o eventualmente gli esterni. Perché lui è una punta molto mobile. Non è uno che parte dall'esterno e che si accentra, è uno che invece fa il contrario, parte dal centro e a volte cerca di strecciare la difesa da una parte o dall'altra. Soprattutto lui preferisce strecciarla verso la sinistra, la popa sinistra, appunto perché la difesa avversaria va a strecciarsi verso destra, ma lui giocando, in questo caso a piedi invertito, ha la possibilità di rientrare sul suo piede forte per poi cercare la giocata. È un desto che non disdegna anche l'utilizzo del sinistro, ma comunque deve assolutamente migliorare, come anche secondo me deve assolutamente migliorare il suo rapporto con il gol. Nel senso che è una punta che svela molto, che è dotata di un'ottima tecnica, che sa proteggere palla, sa usare bene il fisico, che sa arretrare facendo il centro avanti boa, che non disdegna anche il numero come magari può essere il pallonetto in fase di tiro, magari lo scavettino davanti al portiere, ma che davanti alla porta deve ancora affinare quanto meno la freddezza, per cui le capacità le ha. Però ecco, diciamo che il suo numero molto importante, la statistica molto importante che si porta dietro è quella con il Portogallo Ander 19, con il quale ha esordito recentemente e in due partite si è nato tre gol. Però comunque d'accordo che ha giocato, se non ricordo male, poco più di 300 minuti col Benfica fino ad ora, però insomma quattro gol e quattro partite, un gol e un assist. Però giustamente ai giovani va data la possibilità di sbagliare e ovviamente anche di adattarsi a uno stile di gioco diverso, a tempi di gioco diversi. Quindi io, riguardo Scermiti, voglio ragionare più che altro sulle caratteristiche del giocatore e vedere se nel calcio italiano potrebbe dire la sua. Vi dico, secondo me sì, secondo me sì, magari giocando sul fatto del contatto di scadenza al 30 giugno 2024, ecco potrebbe essere utile in primis per quelle squadre che giocano già con difesa 3 e con una configurazione di attacco a 3, quindi gioco fa nel 3-4-3 o nel 3-4-2-1. Quindi potrebbe essere ottimale ad esempio per un Verona, perché secondo me rispetto a Juric in primis è molto più giovane, come Scermiti, ma comunque ha delle caratteristiche da protettore di palla, da boa, ma anche da chi lo spazio te lo so occupare. Bravo anche nel gioco a 2 sulla media distanza. Non vogliamo parlare di Verona perché magari la sua posizione è veramente critica? Beh, nei nomi che si sono fatti ad esempio per il Torino, tra i quali vi era anche Henry, che poi si è rotto, si è infortunato, secondo me ecco, quantomeno a livello di caratteristiche, non parlo di giocatori in sé per sé, potrebbe essere anche questo ottimale, perché è un giocatore che saprebbe giocare con i trequartisti di Juric, perché saprebbe valorizzare il centrocampista centrale deputato all'inserimento. Quindi ecco, come caratteristiche di gioco, potrebbe starci nel calcio di Juric, sempre che Juric rimarrà. Ma comunque ecco, da punta centrale, con degli esterni o con dei trequartisti dietro, potrebbe essere ottimale. Ma più che altro perché il giocatore è abituato a quello sì di gioco. Poi ovviamente, se poi è diventato un giusto tempo e tutto, e non si faccia l'errore che ha fatto il Milan con l'Aztic, perché l'ha preso quando giocava in Croazia, poi l'hanno messo in primavera, non ha giocato per tempo, e adesso non ha dovuto cedere in presto all'alta. Ecco, quello è stato secondo me un errore. Dal momento che tu prendi un giocatore già nel giro di una prima squadra, come lo era l'Aztic, ma come lo è anche Schermitti, tu lo devi prendere e aggregare alla tua prima squadra, devi farlo crescere con la prima squadra. Non che poi primavera per ambientamento, perché in primavera non ti ambienti per nulla, ti ambienti a giocare a scapoli con ammogliati, invece tu devi farlo crescere. A costo anche di giocare 3, 4, 5, 6 partite, 10 partite all'anno in prima squadra, da subentrato, giocando in totale 200 minuti in 10 partite, ma almeno assaggia un ambiente. E secondo me, qualora una società italiana dovesse investire su Schermitti, dovrebbe prenderlo e metterlo in prima squadra. Eventualmente potrebbe essere anche, ecco, una Lazio che cerca un vice immobile, dopo che ha puntato su Caicedo, ha puntato su Adecanie, comunque su Murici, profili veramente ignobili, tranne Caicedo, che poi ha avuto i problemi un po' fisici, ma è l'unico 3-3 che ho citato, che insomma ha reso. Ecco, magari un Schermitti messo lì, fatto crescere l'omba di immobile, potrebbe essere una cosa interessante. Quindi, al di là dei nomi dei club, Schermitti potrebbe essere una tipologia d'attaccante moderno, adatto per l'Italia? Decisamente sì, perché comunque nella maggior parte delle squadre italiane l'attaccante deve valorizzare gli interpreti che gli giocano dietro o ai lati, oltre che ovviamente fare un discorso di buttarla dentro. Quindi, ripeto, per un Tassi 2004, 192 cm, veloce, moderno, col contatto in scadenza, e che è un diamante grezzo, perché lui è un diamante grezzo, non bisogna considerarlo come un giocatore fatto e finito, è un diamante grezzo, che magari muscolarmente può crescere quel quid in più, ma neanche tanto, perché poi giustamente fa la fine di Zagnolo, che mette su massa muscolare e da giocatore bello agile, bello esplosivo, o meglio, bello agile, esplosivo QB, diventa soltanto pachidermico e esplosivo a volte. Ergo, io ci investirei, io quantomeno sono del terreno, quantomeno per provarlo, magari per contattualizzarlo, per pagare quel minimo di fee, intesa come compensazione allo sport in Lisbona, se il giocatore non vuole innovare, te lo prendi, magari lo provi 1, 2, 3, 4 anni, poi magari lo vai a cedere, che ha 22, 23 anni, ma se tu lo prendi a, faccio un esempio, 2, 3 milioni di euro, 5 milioni di euro, roba che lo rivendi a 20, scusate, a 10, 12, 13, 15, infatti quelle plus valenze, ma non l'ho detto plus valenza, perché sennò poi qui la procura mi viene a casa. Ok, perdonatemi la battuta, però, insomma, ormai il tema di plus valenze ha acquistato la stessa valenza dell'aggettivo positivo, essere una persona positiva, ormai al 70%, quantomeno, lo si associa al covid. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!